E' con l'inizio di settembre che torna anche la stagione dei funghi ed è proprio per prevenire delle intossicazioni dovute a funghi non commestibili o addirittura verenosi che si verificano puntualmente ogni anno che l'ispettorato micologico della Dipartimento Prevenzione dell'Asla Toscana Sud-Est ha aperto le sue porte alla cittadinanza per delle consulenze gratuite. Lo sportello micologico è presente in tutte le zone della nostra Asla e ha degli orari prestabiliti e nei giorni prestabiliti. I cittadini possono rivolgersi ai micologi che sono presenti e che grazie a loro eviteranno poi di avere problemi a livello di salute. Ogni anno nella provincia di Arezzo sono alcune decine le intossicazioni che si riscontrano a causa di funghi non commessibili. Sono invece in media circa 500 le persone che si rivolgono ai micologi dell'azienda sanitaria per sottoporre ai loro occhi esperti funghi raccolti, professionisti in grado di determinarne la commessibilità oppure la tossicità. Anche nel territorio aretino infatti non è difficile imbattersi in varietà di funghi velenosi. Naturalmente l'esperto può dire che questo è un fungo commestibile, un fungo buono, questo invece no, appartiene alla specie tossica e quindi viene addirittura gettato al momento in cui ce lo portano in visione. Ma anche in caso di funghi commestibili sono necessarie comunque altre piccole accortezze per non rincorrere così i spiacevoli sorprese. Intanto una buona conservazione, non devono essere congelate alcune specie di funghi soprattutto, altra cosa importante è che anche i funghi commestibili se mangiati in quantità eccessive possono creare disturbi perché il fungo non è un alimento molto digeribile.